oggi parliamo di digiuno intermittente che cos'è a cosa serve e che cosa ne penso io ma prima di tutto ti invito ad iscriverti al mio canale e lasciarmi un bel like e condividere questo video con chi sai può averne bisogno allora alla fine sicuramente vi farò delle con delle considerazioni personali sull'argomento sono state ispirata da questo video da da voi che spesso arrivate in studio dicendomi che fate il digiuno intermittente ma non perdete peso e altri anche su instagram che mi chiedono ma io faccio il digiuno intermittente ma se mi viene fame poi seguono quelle terribili app che ti chiedono di quelle app che ti danno dei protocolli standard che mi sono alle calorie eccetera cioè robe da lasciare andare e è vero che il digiuno intermittente ha molti aspetti benefici sicuramente ma ci sono anche un po di lacune anche perché noi non siamo tutti uguali e chi mi segue sa che io invito le persone a trovare il proprio modo ma prima vediamo che cos'è il digiuno intermittente allora tecnicamente digiuno è un periodo in cui non viene introdotto cibo all'interno del nostro corpo già un periodo di digiuno ad esempio è quello notturno il digiuno è una pratica conosciuta già dall'antichità già paracelso uno dei medici più illustri del rinascimento scriveva il digiuno è il più grande rimedio il dottore interiore per digiuno intermittente si intende più che altro una modalità diversa di distribuzione dei pasti all'interno della giornata all'intermittenza per l'appunto e gli schemi di distribuzione dei pasti sono diversi possono essere diversi abbiamo il classico 16 8 dove si sta praticamente 16 ore a digiuno e otto ore la finestra in cui si mangia lo schema 18 6 idem si sta 18 ore a digiuno e 6 in cui si mangia che è un pochino di più difficile di gestione poi c'è anche lo schema 24 quindi si digiuna per 20 ore si mangiano le quattro rimanenti e lo schema anche 5 a 2 in cui sono previsti apporti calorici limitati imitanti il digiuno quindi circa 500 600 calorie in due giorni della settimana mentre i 5 restanti si mangiano normalmente e poi ci sono anche gli schemi it stop it in cui si digiuna per un giorno intero 24 ore uno o due volte alla settimana forse il più diffuso il più comodo da seguire è lo schema 16 8 ovvero mangiare nell'arco di otto ore e stare 16 ore senza introdurre cibo cioè cosa significa significa che voi potete fare per esempio saltare la cena quindi non mangiare la cena oppure non mangiare alla colazione quando fa bene e quando no vediamo un po cosa ci dice anche un po la scienza no a riguardo intanto quello faccio una premessa secondo me è inutile fare una pratica del genere se poi non si abbina a un'educazione alimentare quindi e anche poi che se si mangia al triplo nel nei passi successivi e soprattutto prodotti industriali o comunque non sani la prima persona che da cui ho appreso un po questa pratica è valter longo e grazie sui studi sulla longevità ma il digiuno in realtà è una pratica conosciuta davvero come ho detto prima già dall'antichità è spesso anche obbligata perché una volta non si aveva il cibo sempre a disposizione no e gli studi di valter longo su modelli animali hanno dimostrato che la restrizione calorica ha effetti sulla longevità in sostanza si allunga la durata della vita e anche un effetto anti aging quindi anti invecchiamento perché le cellule durante il digiuno uno dei diciamo dei meccanismi che attivano dei processi di riparazione di autofagia rimuovendo le cellule danneggiate e per fare in modo che questi processi si verificano dicono appunto che siano necessari almeno 16 18 ore alcuni benefici dimostrati possono essere il dimagrimento ma come vi ho detto non per tutti riduzione della massa grassa riduzione dell'infiammazione miglioramento della pressione sanguigna e dei battiti a riposo miglioramento della risposta insulinica anche della del pannello lipidico quindi dei grassi il mantenimento della massa magra e il miglioramento del metabolismo però non è proprio indicato per tutti a chi è troppo sotto peso in gravidanza in allattamento chi soffre di reflusso e peggiora se lo fa bambini adolescenti persone con diabete tipo 1 o che fanno terapia insulinica chi soffre di ipoglicemie e soprattutto chi soffre di dca cioè se soffrite di un disturbo del comportamento alimentare può andare a peggiorare perché può scatenare il meccanismo della buffata a livello ormonale migliora la risposta insulinica e anche il gh che è noto come l'ormone del benessere a differenza dell'insulina che produce cioè aiuta a produrre il grasso diciamo il gh favorisce la lipolisi quindi il bruciare il grasso e aumenta anche il glucagone che è l'antagonista dell'insulina quindi quando lo zucchero nel sangue inizia a scendere il glucagone stimola la mobilitazione del glucosio da parte delle cellule del pancreas e vengono anche prodotti più cortisolo e adrenalina che hanno la funzione anch'essi di aumentare la glicemia e inibire l'attività dei recettori dell'insulina però allo stesso tempo se si è troppo stressati se si fa fatica se siamo un po' in stress su renalico è meglio evitarlo cosa ne penso io già un po ve l'ho detto no quindi ci possono essere dei vantaggi però se mi seguite da un po sapete benissimo che non amo le identificazioni in uno schema in uno stile alimentare soprattutto in quelle persone che hanno già fatto mille diete che continuano a cercare la soluzione a un problema che non è nel cibo perché si tratta comunque di un meccanismo di che può essere visto dalla nostra parte inconscia come una restrizione che poi può scatenare la buffata credo sia sempre meglio imparare a quelli che sono davvero i segnali di fame e di sazietà senza più seguire ste robe qui se poi tu ti trovi bene vi trovate bene con il digiuno intermittente va benissimo quindi la cosa importante è sempre ascoltarsi e scegliere quello che è più giusto per noi su di me ad esempio a me non piace dire io faccio il digiuno intermittente perché non è questo che faccio però ci sono delle volte in cui al mattino non ho fame e non faccio colazione ok ma non perché seguo il digiuno intermittente semplicemente perché ho imparato ad ascoltarmi quindi questa è la mia condivisione personale riguardo a questa tecnica a questo stile a questa ripartizione dei pasti in maniera diversa quello che vi invito sempre a fare in tutti gli stili alimentari è provo e prendo quello che per me è giusto ma non per questo mi devo identificare in uno schema alimentare quindi in questo modo sarei per sempre libero e libera sarete per sempre liberi e liberi dalle diete da identificazioni mangerete solo seguendo quello che è giusto per voi se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like commentate e ci vediamo nel prossimo